E finalmente siamo qui, siamo arrivati, voi siete arrivati, siete conosciuti col nome Artetica, ma in realtà vi chiamate Enzo e Monica. Conosciuti al grande pubblico grazie a Made in Sud, ma in realtà come siete partiti? In che senso? Nel senso come la vostra... Enzo Motorio. Nel senso... Siamo partiti sette anni fa, sette anni fa? Sette anni fa più o meno. Almeno Made in Sud sei sette anni fa, approssimativamente. Da Canale 34, che era questa rete regionale, da Canale 34 a Sky... C'è già una persona seria. Questa è un'intervista seria. Da Sky a Comedy Central, da Comedy Central alla Rai. Questo è? E basta. C'è una fantasia proprio. Fai un po' di... Però è stato difficile, perché poi quando abbiamo iniziato nessuno ci credeva. Fai che gli fatti, cosa dice? Normalmente. Vabbè, ma ormai le hit, insomma, è andata così questa domanda, un po' triste, è stata... Intervista triste. Ma io ho una curiosità. Ma nella vita reale avete mai incontrato qualcuno che rispecchiasse i vostri personaggi, simili ai vostri personaggi? Ma in realtà i dipendenti da Facebook ce ne sono proprio a bizzeffe. Cioè, ci sono delle cliniche... C'è sicuro bizzeffe. Ha fatto un'ora di lezione d'italiano per venire qua a fare l'intervista ed imparare bizzeffe. Ma voi siete dipendenti da social network come i vostri personaggi? No, noi no. Io sono un po' pazza esaurita come il mio personaggio, ma non dipendente da Facebook. Diciamo che noi esasperiamo, ma se vogliamo siamo tutti dipendenti da tecnologia, social... Cioè, dove siamo? In una sala... In una sala scommessa. Hai provato a scendere di casa senza cellulare? Qualche volta mi è capitato. E come ti sei sentito? Malissimo. Noi stiamo facendo un'intervista. Seria, un'intervista seria. Di fronte a che cosa abbiamo? Un cameraman, una sorta. Con che cosa? Che cosa ci sta riprendendo? Con un iPhone. Vedi, siamo tutti un po' dipendenti. Una volta uno arrivava con la telecamera, è bella, era un bel lavoro. Vedevi il telecamera che sudava, perché erano pizze, guai, che stavano nere. Ma arrivano questi visuali, e ti intervistano, e ti fai pure... Al momento stavano suonando pure il cellulare. Mi, però... No, e questo è il segno che noi non possiamo fare a meno di queste tecnologie. Ma questi personaggi come sono nati? Sono nati perché sono nate delle cliniche per dipendenti da Facebook. qua in Italia, la prima è nata a Roma. Quindi una volta che abbiamo sentito questa notizia, si doveva per forza giocarci su. Giocarci con un po' di satira, però, perché ci vuole. C'è pure l'appoggio, stai facendo molto... Quindi voi vi siete messi in un garage, oggi nascono gli Artetica. Eh, esatto. Immaginazione. Vabbè, facciamo i seri. No, così è successo, veramente. Garage, casa sua a Crispano. In realtà ci conosciamo da una vita, vedi? Progetti in vista? Progetti in vista? Progetti in vista a Made in Sud. Made in Sud, per adesso sta andando bene, sono andando avanti. E speriamo che continui così, perché veramente ci sta salvando la vita. Per ora ci sono le seconde serate, le prime serate invece quando inizieranno? Allora, visto che già hai capito, è domanda seria, le ha fallate. Perché stai girando... Scusami. Ripetiamo, per ora sono partite le seconde serate, le prime serate quando inizieranno? Allora, ci saranno altre sei puntate in seconda serata, due del meglio di, e poi partiremo con la prima serata, quindi sarà novembre e dicembre. Non ti trovi, scusami, ma anche i punti sei fatti. Allora, sono andate due già in onda in seconda serata, lunedì, cioè domani, andrà in onda la terza. Questo vuol dire che quando arriva a sette, se la matematica non è un'opinione, studiate l'ora italiano per venire capo di favore mezz'ora italiana e mezz'ora di matematica. Vuol dire che altre quattro saranno in seconda serata, lunedì, sul Rai 2, seconda serata, seconda e mezza, ricimo, perché è verso mezzanotte. Allora, poi, dopo di che ci saranno due il meglio di, e poi inizieranno... Non hai sempre questi capelli nel meglio di? Anche peggio, perché nel frattempo cresceranno. Al massimo c'è la sua parrucca. No, ma devi capire che sono anche peggio. Poi partiranno le prime serate, nove, un quarto, nove e mezzo, sempre, Rai 2, sempre, lunedì. Non devo capire che anche tu sei stato molto triste, comunque. Sembra di essere a forum. Talk show. Vabbè, allora, adesso facciamo una serie di domandine veloci, io me le sono scritte, altrimenti me le dimentico. Pronti? Partenza? Facebook o Twitter? Whatsapp? Facebook. Instagram o Pinterest? Instagram. L'album fotografico? Instagram. Zelico o Colorado? Made in Sud? No, Zelico o Colorado? Assolutamente Zelic. Zelic. Gigi e Ross? No, canoia, sottroppo. No, no, no. Secca? Ross per un motivo in particolare che non posso dire. Perché è basso come lui, invece Gigi è alto, quindi va in breve. Questo è il motivo. Esatto, sì. Fatima Trotta o Elisabetta Gregoraci? Fatima. Fatima. Perché Fatima? Vabbè, c'è una... Quindi abbiamo paura che in realtà poi improvvisamente viene, oppure che ti ascolta l'intervista. Lei ha a casa a Mercogliano, quindi forse è meglio evitare, insomma... Ah, ok, giusto, giusto. Solo per te. Che poi in realtà la risposta sarebbe stata Elisabetta. Però visto che stiamo... Insomma, diciamo Fatima. Fatima. Ok. Io o lui? Io. Ragazzi, grazie, siete stati simpaticissimi. Facciamo un saluto agli amici di Bassirpinia. Un saluto, un bacione forte forte, non andate troppo su Facebook perché non si fa, capito? Non si fa. Agli amici di Bassirpinia, vabbè, te pure la geografia non nega. Oh, scusate. Grazie.